Il mister De Biassi ha bisogno di fare un amichevole, probabilmente farà un tempo il 3 e poi tornerà, quindi certamente sarà con noi per la semifinalia. Per il ritorno no invece? No, il ritorno no. Domani dobbiamo entrare in campo facendo la nostra gara come abbiamo sempre fatto, poi se Novara non ce lo consentirà useremo altre armi, ma noi entreremo certamente in campo non per il pareggio, non per perdere 1-2-0 ma entreremo in campo per vincere. Se cambierò qualcosa non è un 2-9, se cambierò qualcosa è perché ritengo che altri giocatori possano in una partita di domani essere più utili. Ma il 2-9 non esiste, Novara ha una sua precisa filosofia di gioco, una sua precisa identità ed è un pregio questo, perché al di là poi del piacere o non piacere, ci sono tante filosofie nel calcio che portano ai risultati, ma una cosa è certa che il Novara è una di quelle squadre che ha una precisa identità e quindi come le nostre armi sono il fraseggio, la palla a terra, la verticalizzazione, quelle del Novara sono altre qualità che sfrutta sempre bene, poi nell'ultima partita siamo stati bravi noi a non concedere, ma sono le loro armi. Ah ma che ci sia nell'ambiente, nei tifosi, nei mass media e quant'altro, ne sono contentissimi, sono contentissimi ragazzi, anzi, più ce n'è meglio è. I tifosi possono essere euforici quanto vogliono, il problema è se euforici troppo lo sono i miei giocatori, i miei giocatori non devono essere euforici, devono essere belli carichi, umili, consapevoli che fino a domani a fine partita il turno non si è passato, ma dobbiamo continuare sulla strada della partita di andata.